elodie elodie io non so come si pronuncia elodie io so soltanto che è bellissima una brava cantante sembra che sia famosa in tutto il mondo mi viene detto che ha ricevuto tante offese sensiste sessiste da parte di Matteo Salvini Matteo Salvini ma come hai potuto offendere una donna così bella, brava e buona come la cantante Eloise scusatemi amici io non so come si pronuncia questo nome, non so se è un nome italiano francese tedesco, inglese spagnolo non so nulla, non so nulla so soltanto che sul web ho letto che questa bella cantante Eloise ha ricevuto tanti insulti sensisti da parte di Matteo Salvini Matteo Salvini ma come hai potuto offendere in questo modo questa bella creatura senti Matteo Salvini io voglio che tu faccia la pace con Eloise va bene Matteo Salvini perché io sono una persona buona capito? sono una persona buona se tu Matteo Salvini mi farai pervenire il tuo preciso recapito postale io ti farò pervenire a mie spese una copia autografata di questa mia opera la stilpe del serpente e quando tu l'avrai letta tutta ti verrà subito la voglia di fare la pace con la bella Eloise mi raccomando Matteo Salvini guarda che io te voglio bene aspetto che tu mi faccia pervenire il tuo preciso recapito postale e così riceverai subito da me una copia di questa mia pregiata opera la stilpe del serpente va bene Matteo Salvini a te Matteo Salvini e alla dolce Eloisa Eloise Eloise tanti cari saluti da Gerafino Massoni